Quindi, ti iscrivi anche tu a The Plus? The Plus? Sì, The Plus. È così che lo chiamano i ragazzi fighi. Ne dubito seriamente. Non l'hai sentito? Hai già fatto il The Plus? No ma mi farò un The Plus Con un sacco di film e di serie Che tu puoi guardare quando vuoi Saresti fuori se non fai il The Plus In quale parte del mondo l'hai sentito? Era su una pubblicità promossa su social media Che c'è? Ti stai condizionando amico Questo è marketing mirato È solo una pubblicità Oh, è molto più di questo, te lo assicuro Ah, non lo sai A quale servizio streaming ti sei iscritto? L'unica cosa a cui mi iscrivo è vendetta e giustizia Oh, che sorpresa Per nulla prevedibile È estremamente prevedibile E non sembra mostrare segni di cancellazione Io lo chiamo Gotham Plus Batman Gotham Plus Batman Intelligente Io sono il servizio streaming Sì, ho capito Perché sto servendo alla giustizia Hai fatto molti abbonati? Oh, tonnellate Perché ogni volta che sorprendo qualcuno a fare una vita criminale Vado da lui e gli faccio Iscriviti a me! Kaboom! È davvero figo Beh, ti stai perdendo amico mio Anche le app di streaming sono fantastiche E ora ce ne sono così tante da scegliere C'è Amazon Netflix HBO CBS All Access DC Universe YouTube TV ESPN Plus Apple TV E ora The Plus Per favore basta chiamarlo così Te lo perderai No Risparmierò i soldi Come se ne avessi bisogno Quanto spendi al mese di streaming? Con tutte le app e internet compreso Circa 200 dollari È ridicolo, non credo che tu stia risparmiando Sì, ma ora posso guardare quello che voglio quando lo voglio E voglio guardarmi Mandalorian Stranger Things The Boys Che è davvero disgustoso e insultante Quindi non dovrei consigliarlo Ma allo stesso tempo è davvero avvincente Oh, sono colpito C'è Barry British Bake Off The Good Place Watchmen Puffin Rock Puffin Rock? Oh, è uno show per bambini Super carino Dovresti vederlo Non guarderò Puffin Rock Come trovi il tempo per guardare tutto questo? Eh, sono super veloce Ricordi? E non è che al momento sia così Impegnato con l'attuale situazione della Justice League Quale situazione della Justice League? Noi siamo finiti, ricordi? Oh sì, giusto Abbiamo schivato un bel proiettile, vero? Dipende a chi lo chiedi Io non ho bisogno di schivare proiettili Quindi non ho necessità di andarmene Chissà Forse tornerò Vedremo Il che mi ricorda? Witcher su Netflix E non dimenticare di guardare ApoTV Plus Woo! Quindi stai dicendo che senza la Justice League Sei soltanto una pappamolla su un divano? Senti, non posso farci niente Se riesco a finire il mio lavoro più velocemente di te E avere del tempo per guardarmi delle serie tv a fine giornata Devi smetterla di sprecare soldi E tu hai bisogno di Netflix e relax Oh, cosa sei? Mr. Freeze? Hai bisogno di Netflix e relax Non ho bisogno di Netflix e relax Sai perché? Perché sono un Batman rilassato! Io e Lois faremo The Plus e ci rilasseremo Ok, la conversazione è diventata strana Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie per la visione!